Giornata importante per i giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Partono le firme dei protocolli tra comitato organizzatore e sindaci dei comuni interessati a partire da Taranto. Una Taranto gremita ed entusiasta ha salutato la prima giornata dei festeggiamenti del patrono San Cataldo nel giorno della suggestiva processione a mare. Il programma è stato completato dalla prima manche del palio di Taranto. Entrambi seguiti dalla lunga diretta di Antenna Sud. Con un'apertura straordinaria del ponte girevole di Taranto questa mattina alle 5 è transitato il mega yacht realizzato da tre aziende tarantine proveniente dai cantieri navali ex Tosi e destinato ai cantieri navali di Livorno a Zimuth Benetti. Ben ritrovati nuovamente in diretta il momento dell'informazione dedicata a Taranto e provincia. C'è una giornata importante per i giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Partono infatti oggi le firme dei protocolli tra il comitato organizzatore e i sindaci dei comuni interessati a partire proprio da Taranto. Torniamo dunque a collegarci in diretta con il direttore Gianni Sebastio. Direttore, buon pomeriggio. Grazie Valentina, giornata fondamentale per i giochi del Mediterraneo perché è stato firmato il protocollo d'intesa tra il commissario di governo ferrarese e il sindaco di Taranto Melucci per sbloccare i fondi destinati ai giochi del Mediterraneo che si taranno a Taranto nel 2026. Ad agosto il finanziamento complessivo, lo ricordiamo, è di 275 milioni di euro. Di questi 35 saranno destinate alle attività organizzative. Per la sola città di Taranto sono previsti 161 milioni, altri 40 da destinare alle strutture sportive della provincia. Rispetto al primo masterplan redatto dal precedente comitato organizzatore nel dicembre del 2002, l'importo complessivo per il finanziamento dei ventesimi giochi del Mediterraneo adesso potrà disporre di ulteriori 20 milioni. Con questa firma dunque si sbloccano i finanziamenti e si avvia la fase di appalto e cantiere. Le altre città coinvolte sono Brindisi e Lecce, i cui sindaci firmeranno il protocollo lunedì prossimo per la città di Brindisi 10 milioni, 6 per lo stadio Fanuzzi, 4 per le opere esterne alla Palapenta Assuglia, per Lecce 14 milioni, 11,3 per le migliorie dello stadio di Via del Mare, 2,7 per il Palaventura, finanziamento di 6 milioni per Francavilla Fontana, 3 per gli interventi allo stadio e altrettanti per il Palazzetto dello Sport. Analoga forma di finanziamento in queste ore con la firma per i sindaci dei comuni della provincia di Taranto, che sono diversi, e poi sono stati coinvolti anche i comuni di Conversano, in provincia di Bari e di Fasano, nel Brindisino. Si sta valutando un'ulteriore spesa di 15 milioni per realizzare la copertura dello stadio di Via del Mare a Lecce, e poi ci sono 22 milioni in più per lo stadio Erasmo Iacovone. Questi 22 milioni si aggiungono ai 28 già finanziati. Sempre nel capologo ionico ci saranno interventi per ristrutturare il Palaricciardi, 5 milioni, il Centro Sportivo Magna Grecia, complessivamente 12 milioni, di cui 5 per l'impianto di patinaggio skate, e altri 15 milioni per le opere di contesto, come ad esempio i parcheggi. Dunque si entra nella fase più importante dell'organizzazione dei giochi del Mediterraneo e vi teremo informati nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Può tornare alla linea allo studio. Grazie, grazie direttore. Una Taranto gremita ed entusiasta ha salutato la prima giornata dei festeggiamenti in onore del patrono San Cataldo nel giorno della suggestiva processione a mare. Il programma è stato completato dalla prima mancia del Palio di Taranto, entrambi seguiti dalla lunga diretta di Antenna Sud. Una consuede sempre nuova festa di popolo, di fede e di tradizione, premiata da un clima dolce, da un cielo sereno nonostante le previsioni. I festeggiamenti di San Cataldo, patrono di Taranto, hanno vissuto il loro primo atto accompagnati dal saluto di migliaia di persone che hanno affollato la ringhiera della città vecchia e poi la zona della canale navigabile per assistere al passaggio della suggestiva processione a mare che apre la tre giorni dedicata alla Santo, realizzata da Arcidiocesi, Marina Militare e Amministrazione Comunale. Dopo la cerimonia d'Upreggio con la simbolica consegna della statua di San Cataldo dalla diocesi al sindaco, il simulacro è stato imbarcato sulla motonave Cheradi prima di un lungo percorso in mare dell'attacco alla Castello Aragonese, momenti contornati dai suoni della fanfara, della Marina Militare e dai fuochi pirotecnici che torneranno anche nella serata della 10 al termine della processione di terra. Importanti le parole pronunciate dall'Arcivesco di Taranto, Monsignor Ciro Miniero, un invito senza confini di ruolo ad amare e a servire Taranto, pacificando gli animi di una comunità frammentaria e divisa, proteggendo la città e la natura dall'inquinamento. La bellezza di una giornata di ricordare è stata completata dall'appendice sportiva del Palio di Taranto, la tradizionale regata tra rioni, giunta alla 39esima edizione, che ha visto trionfare tre carriere battisti con Marco Sandi e Antonio Vorace davanti a Isola Porta Napoli e alla Salinella. Eventi seguiti in rigorosa diretta per oltre cinque ore dalle telecamere di Antena Sud, sempre al servizio dei telespettatori, con immagini e interviste esclusive. Ed ancora a Taranto, con un'apertura straordinaria del ponte girevole di Taranto. Questa mattina alle 5 è transitato il megayacht realizzato da tre aziende del Tarantino, proveniente dai cantieri navali ex Tosi e destinato ai cantieri navali di Livorno a Zimuth Benetti. Si è conclusa la missione tutta medi in Taranto e non sarà l'unica del megayacht realizzato negli ex cantieri navali Tosi dalla SGM di Maurizio Abbate Matteo, dalla Sea Style Company di Pasquale di Napoli e dalla Costruzioni Generali. Questa mattina alle 5 l'apertura del ponte girevole per il transito dell'imbarcazione destinata nei cantieri di Livorno per la committente Azimuth Benetti, azienda per la quale era presente all'avvaro del megayacht il direttore Ferdinando Pilli. Operazione che, a proposito di ricadute per Mindotto, è stata gestita dall'Agenzia Marittima di Marco Caffio con i rimorchiatori napoletani, azienda leader nel settore, gli ormeggiatori e il corpo dei piloti. L'imbarcazione, denominata FB 616, è stata realizzata totalmente in acciaio ed alluminio da esperte maestranze locali. L'eccezionale impresa, perché davvero ha i caratteri dell'eccezionalità, è stata realizzata grazie alla rinascita di un sito storico per la nautica tarantina, gli ex cantieri navali Tosi, a cui SGM ha dato nuova vita e splendore, nonché alla lungimiranza e all'impegno degli imprenditori coinvolti nel progetto. Entro l'anno saranno varate altre tre imbarcazioni, una nuova barca porto per l'arsenare marittimo militare e poi altri due yacht, il tutto nei cantieri della SGM. Ed intanto a Palazzo di Città Manduria, nell'ultimo Consiglio Comunale, si è discusso del crollo del canale di Torre Colimena che frana da oltre un anno. Portare sul tavolo della Regione Puglia e all'attenzione del Presidente Michele Emiliano il problema del crollo del canale di Torre Colimena. E' questa la soluzione proposta dal Consigliere Agostino Capogrosso in Consiglio Comunale a Manduria, rispetto all'annosa questione del cedimento dell'argine della Marina che si protrae da oltre un anno. Si poteva intervenire attraverso opere di somma urgenza e protezione civile, ha invece dichiarato il consigliere Domenico San Marco durante l'interpellanza presentata dai Demos Gregorio Perrucci e Pasquale Pesare. Da più di un anno il canale di Torre Colimena continua a franare, eppure a Palazzo di Città persistono i rimpalli di responsabilità tra Comune, Regione e Consorzio. Per l'assessore ai lavori pubblici, Piero Raimondo, l'intervento di manutenzione rientra nella competenza del Consorzio di Bonifica. Arneo lo scorso marzo aveva acceso le sue ruspe, togliendo i sassi pericolanti. Poi nulla è stato più fatto per colpa ancora una volta dei rimbalzi di responsabilità per il ripristino del canale. L'unica cosa che io chiedo all'amministrazione è di fornire alla città a questo punto dei tempi certi. All'orizzonte dunque ancora nessuna immediata soluzione. Intanto la stagione turistica sta bussando con urgenza le porte di Torre Colimena, che si porta dietro la bruttura e la pericolosità di uno scorcio della sua marina con lamiere a terra abbandonate a se stesse. Un biglietto da visita sicuramente non entusiasmante per i turisti. Il pensiero, la politica estera, gli insegnamenti di Aldo Moro a distanza di 46 anni dalla sua morte è sempre validi e oggetto di insegnamento per gli studenti. il Dipartimento Ionico dell'Università che porta il suo nome lo ha ricordato con un convegno. 46 anni fa moriva Aldo Moro ed il Dipartimento Ionico dell'Università che porta il nome dello statista ucciso dalle Brigate Rosse lo ha ricordato con il convegno l'eredità della politica estera di Moro. Una lettura del Mediterraneo che possa recuperare la caratteristica del Mediterraneo come il luogo dell'incontro delle civiltà. Secondo noi questo impegno e questa visione del Mediterraneo è una visione congeniale a Moro per quello che egli ha fatto da Ministro degli Esteri da Presidente del Consiglio. Quanto il pensiero di Aldo Moro possiamo ritenerlo ancora attuale? Il pensiero di Aldo Moro è attualissimo insieme a quello di Lapira insieme a quello di altri statisti. Si tratta di statistiche che hanno sempre avuto una visione di lungo periodo che sembra un po' appannata ultimamente allora per gli studenti è un'opportunità di tornare a riflettere magari iniziare a riflettere su queste cose e arricchire la loro formazione. Taranto ha ricordato lo statista che ha frequentato liceo Archita per poi intraprendere il percorso di studi giuridici presso l'Ateneo Barese diventando poi costituente e politico e di cui insegnamenti restano ancora oggi parte integrante del percorso formativo di ogni studente. Ed ora Martina Franca con l'inaugurazione di una nuova sede dell'Udc. Un momento significativo per la politica locale con l'inaugurazione della nuova sede del coordinamento cittadino dell'Udc a Martina Franca. L'evento ha confermato il consolidamento e l'importanza dell'unione di centro nel contesto cittadino e provinciale. Tra i presenti c'era anche il vice segretario nazionale dell'Udc Gianfranco Chiarelli e la coordinatrice cittadina Donatella Castellana assieme al copogruppo in consiglio comunale Mauro Bello. Qui a Martina abbiamo veramente questo vantaggio di avere quattro consiglieri comunali di cui tre giovanissimi e il capo diciamo dell'opposizione che l'ex candidato sindaco Mauro Bello che ha un'esperienza per cui guidati Donatella Castellana che ha sicuramente un'esperienza ma che non aveva mai militato in alcun partito ritengo che per Martina sia diciamo il valore aggiunto L'apertura della sede di un partito è sempre l'occasione perché la politica possa tornare in mezzo alla gente Proprio così infatti stasera è la festa dell'Udc a Martina Franca ora l'apertura sì è un posto piccolo ma il simbolo di una progettualità di una comunità grande questo è quello che io auspico a me come segretario cittadina appunto dell'Udc ai consiglieri dell'Udc a tutti quelli che si affacceranno a questa grande unione quindi vorrei che fosse una fabbrica di idee Omicidio Polo Stasi tutto rinviato al prossimo 10 giugno in aula presso il Tribunale dei minorenni di Lecce invocata dall'accusa una pena esemplare per il presunto killer Luigi Borracino l'asola di Brindisi è stata condannata a un risarcimento di 300.000 euro ai familiari di una donna a cui venne diagnosticato in ritardo un cancro all'utero a causa di insulti e minacce ricevute è stato annullato dagli stessi organizzatori l'incontro con il generale Roberto Vannacci candidato all'Europarlamento dalla Lega che era in programma a Torre Santa Susanna Nuovamente in diretta ben trovati Omicidio Polo Stasi tutto rinviato al prossimo 10 giugno in aula presso il Tribunale dei minorenni di Lecce invocata dall'accusa una pena esemplare per il presunto killer Luigi Borracino sul posto per noi il collega Michele Iurlaro Michele a te Ecco pensavamo Valentina che oggi fosse il giorno del giudizio invece no tutto rinviato al prossimo 10 giugno rinviata soprattutto la Camera di Consiglio dopo l'udienza di oggi qui presso il Tribunale dei minorenni di Lecce per l'omicidio di Paolo Stasi la pubblica accusa i procuratori hanno chiesto una pena esemplare per Luigi Borracino oltre 20 anni considerando l'omicidio considerando altri reati legati allo spaccio e alle armi ma stiamo parlando comunque di una pena che dovrà chiaramente subire una riduzione per via del rito abbreviato complessivamente stiamo parlando di 18 anni eppure per conoscere la decisione del giudice per conoscere quella verità che ci aspettavamo per oggi bisognerà attendere fino al prossimo 10 giugno data appunto della prossima udienza e della Camera di Consiglio chiaramente per tutti i dettagli vi rimandiamo alle prossime edizioni del nostro telegiornale al nostro sito antennasud.com prima però vi facciamo ascoltare le dichiarazioni dell'avvocato dell'imputato ovvero l'avvocato Maurizio Campanino appena uscito dal tribunale Allora avvocato appena terminata l'udienza noi abbiamo titolato il giorno del giudizio il giorno della verità c'è stata la sentenza non c'è stata la lettura del dispositivo è stata rinviata per l'eventuale replica il 10 di giugno in cui ci sanno le repliche del procuratore dottoressa Filoni il PM Paola Guiglielmi e poi ci sarà la lettura del dispositivo quindi è rinviata che è successo in l'udienza oggi? Beh ci sono state le requisitorie dei due pubblici ministeri la discussione della difesa i pubblici ministeri hanno chiesto una pena finale pari a 20 anni ovviamente includendo e riconoscendo la sussistenza delle aggravanti contestate nel capo di incolpazione ovviamente la difesa le ha tentato di demolirle nella discussione adesso aspetteremo per vedere cosa deciderà appunto il collegio la procura ha invocato una penna esemplare diciamo che si è discostata molto si è discostata anche dai minimi dittali ricordiamoci che siamo di fronte ad un tribunale per i minorenni dove il riconoscimento delle attenanti generiche deve essere concesso se non altro per la minoretà cosa che non è stata fatta dai pubblici ministeri ritenendola non sussistente o non concedibile vedremo ripeto cosa deciderà poi il collegio grazie dunque al collega Michele Iurlaro ed intanto una targa che profuma di legalità in ricordo delle vittime della mafia e della criminalità è stata installata su Viale Vincenzo Lilla la cerimonia ieri alla vigilia proprio dell'udienza nel processo sull'omicidio di Paolo Stasi tutti i giorni la scuola per tenere davvero vivi i valori che sono stati incarnati da tanti la mamma di Cioppino nasconde sofferenza e rabbia sotto le lenti scure dei suoi occhiali da sole perché non basteranno le parole per lenire quel dolore mai scomparso lungo più di un decennio Francesco Ligorio fu ucciso da ignoti per errore con violenza morto sulla statale 7 oltre 14 anni fa in quella targa di legalità svelata su Viale Lilla il suo nome non c'è ma più volte viene invocato e ricordato come quello di Carmelo Magli come quello di Paolo Stasi il maltempo dei giorni scorsi e forse il destino ha voluto che la cerimonia promossa dal movimento giovanile radici 021 e dall'associazione i ragazzi di Via D'Amelio il ricordo dei martiri della giustizia e delle vittime di mafia si svolgesse a poche ore dall'udienza decisiva che presso il tribunale dei minorenni di Lecce è chiamata a mettere nero su bianco le responsabilità dell'omicidio di Via Occhi Bianchi dove gli 19 venne persa la vita alza la testa Francavilla Fontana lo fanno ragazzi e ragazze e istituzioni forze dell'ordine Falcone Borsellino Don Pino Puglisi e ai giovani della città degli imperiali il compito di custodire i loro volti il loro retaggio con orgoglio con riconoscenza dobbiamo dobbiamo in tutti i modi ricordare per non ripetere gli errori del passato da qui in Viale Lilla tutti i ragazzi e non potranno vedere i loro volti i volti di Giovanni Falcone Paolo Borsellino Don Pino Puglisi e ricordarsi di quello che hanno fatto in vita e per quello che sono morti ovvero per ridare giustizia e dignità ai loro cittadini ai loro ai loro fratelli e a un territorio che è mortificato dalla presenza della mafia L'asla di Brindisi è stata condannata a un risarcimento di 300.000 euro ai familiari di una donna a cui venne diagnosticato in ritardo un cancro all'utero La Corte di Cassazione ha confermato la condanna dell'asla di Brindisi a un risarcimento di 300.000 euro agli eredi di una giovane donna di Lecce morta per un cancro all'utero che non era stato diagnosticato tempestivamente Gli ermellini hanno respinto il ricorso presentato dall'azienda sanitaria condannandola anche al pagamento delle spese di giudizio La vicenda è quella drammatica di una donna ammalatasi di cancro nel 2007 La paziente era stata sottoposta al prelievo di un campione per l'esame istologico ma tale verifica non era stata mai eseguita dal ginecologo che la seguiva La causa civile contro l'ASL venne intentata quando la paziente era ancora in terapia Secondo quanto emerso nei tre gradi di giudizio la mancata esecuzione dell'esame istologico aveva provocato una scoperta tardiva del tumore maligno avvenuta solo dopo alcuni mesi con la contestuale diagnosi di metastasi diffuse che avevano portato la giovane donna alla morte prematura durante il processo di primo grado Il Tribunale di Brindisi aveva accertato che il ritardo diagnostico aveva comportato la rapida progressione della patologia neoplastica influendo sulle scelte terapeutiche a disposizione e diminuendo sensibilmente le probabilità di sopravvivenza stimate dai consulenti tecnici nominati d'ufficio nel 15-20% valutazioni confermate dalla Corte di Cassazione ci occupiamo ora di lavoro vertenza Sir a Brindisi giornata di protesta indetta dal sindacato Cobas giornata di mobilitazione indetta dal sindacato Cobas di Brindisi sull'avvertenza Sir 76 lavoratori a rischio licenziamento per un tema ben più alto legato alla decarbonizzazione al futuro della centrale Enel di Cerano con il rischio che questo possa essere solo il primo tassello di una problematica ben più ampia i lavoratori hanno incontrato la prefettura Brindisi del primo cittadino Giuseppe Marchionna il processo di decarbonizzazione che prevedeva investimenti alternativi sembra di fatto cancellata e quindi noi lottiamo intanto per riprenderci quello che è nostro e giorno 15 c'è un incontro alla task force regionale ma noi anticipiamo al sindaco che ha il compito affidato gli dà il governo per la reindustrializzazione di avvisare il governo che a queste riunioni devono mandare anche un rappresentante del governo per dirci cosa vogliono fare e soprattutto per restituirci quello che è nostro è sempre più urgente tornare al tavolo ministeriale ed è sempre più urgente che Enel ci presenti questo famoso piano di reindustrializzazione che è l'obiettivo principale che noi dobbiamo avere adesso il prossimo appuntamento è per il 15 di maggio la task force regionale formalmente convocata sulla vicenda Euroapi ma in realtà noi sappiamo bene ormai che si parla in generale di vertenza Brindisi e da Brindisi dureranno almeno nove mesi i lavori di ristrutturazione del dormitorio della città adriatica che intanto prosegue a rilento la realizzazione delle tendostrutture ma nella nuova struttura vi sarà spazio solo per 72 ospiti che risce l'assessore ai servizi sociali ci vorranno ancora 15 giorni almeno per trasferire gli ospiti del dormitorio di Brindisi nelle tendostrutture realizzate per offrirgli un ricovero in attesa che l'edificio venga ristrutturato nelle tre tende sono in fase di installazione i servizi igienici e gli impianti di climatizzazione negli ultimi mesi il dormitorio versava in condizioni indegne sul piano igienico sanitario e non solo per questo il comune corso nuovamente ripari ho parlato con l'ingegnere dell'anno responsabile della Brindisi Multiservizi mi ha assicurato che tutto quanto sarà pronto entro 10-15 giorni al massimo e quindi provvederemo a spostare gli immigrati dal capannone attuale alle tendostrutture che abbiamo fatto montare quindi ci sarà questa sistemazione momentanea tra 15 giorni gli immigrati dovrebbero lasciare quel capannone fatiscente andare nelle tendostrutture poi che succederà? niente dopo c'è l'assignazione per quanto riguarda il capannone grande adesso lo stanno usando gli immigrati verrà tutto quanto ristrutturato tempo 9 mesi mi hanno detto la ditta tempo 9 mesi sarà tutto quanto pronto e quindi gli immigrati ritorneranno in quel capannone in condizioni decenti ci vorranno circa 9 mesi per rimettere a nuovo la struttura che diventerà una casa delle culture all'interno tuttavia troveranno ospitalità soltanto 72 persone per le altre bisognerà trovare una nuova sistemazione in sinergia con la prefettura e da causa di insulti e minacce ricevute è stato annullato dagli stessi organizzatori l'incontro con il generale Roberto Vannacci che era in programma a Torre Santa Susanna è stato annullato perché non intendo creare problemi a nessuno non intendo creare problemi all'amministrazione delle forze dell'ordine non intendo creare problemi ai locali che si erano prestati ad ospitarci pressioni e critiche sollecitazioni ma anche insulti e minacce e così alla fine l'evento del 14 maggio con il generale dell'esercito italiano Roberto Vannacci candidato all'Europarlamento con la Lega è stato annullato era già successo altrove nelle ultime ore è successo ancora con il caso sulla presenza dell'autore del controverso bestseller Il mondo al contrario all'Oscar del libro di Conversano le idee di Vannacci da molti giudicate omofobe e razziste continuano a scatenare reazioni non sempre legittime e il confronto democratico come spiega l'avvocato Raffaele Missere che tra gli altri aveva lavorato per garantire la presenza del generale a Torre Santa Susanna va a farsi benedire per questo l'evento è stato annullato Ho vissuto anche due episodi di una moto che è passata sembrava sempre la stessa con due persone a bordo con i caschi uno di questi mi ha gridato contro con epiteti che la mia vita umana non merita lanciando anche delle minacce del tipo ti uccideremo ti appenderemo una cosa del genere io credo che mi impegnerò con Vannacci o con altri in altri incontri dove si possa tranquillamente colloquiare con tutti ed avere scontri verbali con tutti anche accesi ma con tutti per far capire a tutti che ci formiamo e ci creiamo e ci strutturiamo mentalmente più che fisicamente se abbiamo il confronto con gli altri si è svolto nell'attro di Palazzo Adorno l'omaggio intitolato è tempo del coraggio e della responsabilità in occasione del 46esimo anniversario della morte di Aldo Moro dopo il no della soprintendenza sulla pineta comunale il comune di Gallipoli sta valutando altre aree da trasformare in parcheggio in calza l'opposizione sono 20 i ragazzi con spettro autistico coinvolti nel progetto Linfa che promuove l'inclusione attraverso il mondo dell'acqua ben ritrovati nuovamente in diretta come di consueto all'interno del Tg dedicato a Lecce e provincia ci colleghiamo in diretta con la collega Maria Teresa Carrozzo caporedattore a Lecce all'interno proprio della redazione di Antenna Sud Maria Teresa buon pomeriggio buongiorno Valentina buongiorno ai nostri telespettatori siamo in diretta dalla redazione di Lecce come vedete al mio fianco l'onorevole Enzo Maraio candidato al Parlamento europeo come capolista per la circoscrizione meridionale nella lista Stati Uniti d'Europa all'interno di questa lista personalità eccellenti oltre a quella ovviamente di Maraio Renzi ed Emma Bonino grazie mille per essere venuto nel nostro studio innanzitutto grazie a voi è uno slogan che parla di sud tra l'altro lei è l'unico meridionale candidato nella circoscrizione del meridione un grande messaggio che volete dare? nella scelta del capolista abbiamo voluto dare un segnale di radicamento nel territorio a differenza di altri partiti soprattutto a destra che calano nel territorio del sud e del meridione candidature a capolista che non sono del meridione penso al generale Vannacci della Lega piuttosto che a Giorgia Meloni a Tajani e questo non credo sia un segnale casuale ma sia invece un segnale con il quale di fatto la destra si allontana dal sud come ha fatto già con i provvedimenti togliendo gli sgravi fiscali riducendo a una la rete delle ZES da otto eliminando i fondi di investimento per il sud ma lo faccia soprattutto perché vuole commissariare non credendo nel gruppo dirigente del sud vuole commissariare la classe dirigente del sud a destra e soprattutto crearsi il terreno fertile per farci ingoiare il boccone amaro di iniziative a partire dall'autonomia differenziata che avrebbero e avranno un ritorno negativo disastroso per il sud Lei ha appena concluso proprio in queste ore il tour nel Salento che clima ha trovato? Sicuramente un clima molto positivo di un partito che in queste zone quello socialista ha una lunga tradizione anche radicata del nostro partito siamo impegnati nelle competizioni elettorali dove è tornato il simbolo socialista sulla scheda elettorale alle comunali di Lecce alle comunali di Bari quindi noi siamo molto soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto ma siamo ancora più soddisfatti delle tematiche che stiamo portando avanti degli incontri con i cittadini dai quali abbiamo ricevuto le solite istanze che noi conosciamo bene la difesa della sanità pubblica che oggi viene messa in discussione a livello complessivo da scelte del governo nazionale anche da qualche errore che facciamo sul territorio che ha smantellato di fatto la medicina territoriale ha tolto i fondi alla sanità pubblica e purtroppo c'è una certa tendenza anche a favore della sanità privata che per esempio nelle liste del centrodestra esprime candidature autorevoli noi non ci rassegniamo all'idea che un cittadino debba rinunciare a farsi curare con la sanità pubblica perché non ha i soldi quello che sta accadendo soprattutto nel nostro sud e poi la difesa della scuola pubblica l'investimento sull'istruzione la competitività dei nostri giovani il nostro capitale umano soprattutto al sud è decisiva e sapere che i dati che vedono nel sud il più basso livello di istruzione il più alto tasso di abbandono scolastico è davvero delittuoso noi dobbiamo e l'abbiamo lanciato e abbiamo condiviso con i tanti nostri elettori la necessità di sbloccare l'ascensore sociale il vero tema importante per il nostro paese perché un cittadino un giovane che nasce in una famiglia a prescindere dai livelli economici della famiglia deve poter competere deve poter essere messo in condizione a pari degli altri di crescere di formarsi di istruirsi e quindi di accettare le sfide del futuro che ha davanti e grazie mille all'onorevole Enzo Maraglio grazie mille onorevole grazie a voi Valentina ripassiamo la linea in studio grazie grazie alla collega Maria Teresa Carrozzo e al suo ospite ed intanto nell'atrio di Palazzo Adorno quest'oggi l'omaggio è tempo del coraggio e della responsabilità in occasione del 46esimo anniversario della morte di Aldo Moro per il 46esimo anniversario dell'assassinio di Aldo Moro la provincia di Lecce ha ospitato una cerimonia in suo ricordo promossa dal consiglio regionale della Puglia intitolata è tempo del coraggio e della responsabilità riprendendo proprio uno dei messaggi più forti dello statista pugliese Moro è stato un faro per la Repubblica Italiana per la nostra Costituzione è un faro per ogni giorno per ciascuno di noi dimostra il coraggio di battersi per le proprie idee ma anche le azioni concrete che si fanno per poterle realizzare le proprie e quelle degli altri l'autonomia del pensiero i principi fondamentali della Costituzione la centralità della persona non sono solo slogan è quello che è stato scritto nella Costituzione per garantire a tutti noi le libertà nostre e i nostri diritti giunge il 46esimo anniversario della morte di Aldo Moro un anniversario che va ricordato ogni anno anche con i più giovani assolutamente va nel solco dei giovani di ricordare ai giovani cosa è stato quel periodo un periodo disgraziato per la Repubblica Italiana è il tempo del coraggio e della responsabilità per un amministratore per un dipendente pubblico per qualsiasi cittadino è sempre il momento della responsabilità quindi coltivare la responsabilità verso questi nuovi giovani questi ragazzi che saranno i cittadini di domani è la scommessa di tutti quanti noi ci spostiamo a Gallipoli dopo il no della soprintendenza sulla pineta comunale il comune di Gallipoli sta valutando altre aree da trasformare in parcheggio e l'opposizione in calza considerata l'elevata presenza di valori paesagistici e sensibilità ambientali nell'area indicata per l'intervento proposto si ritiene che la trasformazione del sito possa indurre significativi e negativi impatti sul contesto paesagistico tutelato con queste parole la soprintendenza di Lecce ha bocciato la proposta presentata dal comune di Gallipoli e finalizzata l'utilizzo della pineta multifunzionale situata nel tratto di litorale tra Lido San Giovanni e Canale dei Samari quale area parcheggio stagionale da 300 posti utilizzabile per un massimo di 4 mesi ora dopo la frenata dell'ufficio periferico del Ministero della Cultura spetta al comune Ionico presentare le sue contradduzioni valutando anche altre proposte oltre a quella bocciata tra le alternative potrebbe tornare utile l'attivazione dell'area parcheggio nella zona artigianale 340 posti auto che però già l'estate precedente non erano stati molto utilizzati dai turisti oltre a questa il comune potrebbe pensare anche alle aree più centrali all'ingresso della città qual è l'area mercatale quella di via Zacà e via Rossellini dagli scrani dell'opposizione si sollevano dubbi e perplessità si tirano in ballo sempre gli stessi parcheggi che sappiamo perfettamente ce la possiamo raccontare quanto vogliamo ma sappiamo perfettamente essere dei parcheggi distanti dai centri di interesse della città alla luce di quanto ho letto negli scorsi giorni però una domanda sorge spontanea che senso hanno avuto tutti quei tavoli tecnici che presumiamo abbiano visto coinvolti tutti gli enti che appunto dovevano risolvere o comunque chiamati a decidere su determinate questioni ci chiediamo che effetti abbiano avuto e che senso a questo punto abbiano avuto se uno degli enti preposti a autorizzare un piano parcheggi piuttosto che un piano mobilità del genere poi si esprime con un parere negativo parliamo di pane e di come probabilmente cambiano le abitudini dei salentini relativamente agli impasti definiti speciali carboidrati odio e amore degli italiani soprattutto quando la prova costume alle porte demonizzati da molti e rinunciabili per i più prodotti come gallette grissini crackers oggi si affiancano al pane negli scaffali e spesso lo sostituiscono nelle tavole degli italiani alla ricerca di alternative pratiche e salutari e amate sono anche le farine speciali il classico pane di farina bianca continua ad essere venduto certo si si è molto buono e si si è venduto qual è la farina più alternativa che è che adesso sul mercato è segale 100% integrale multicereali basta questo qui ma è un pane per VIP nel senso che è costoso o è alla portata di tutti no dipende la qualità pure della farina come la farina che si usa sono 20 i ragazzi con spettro autistico coinvolti in un progetto che promuove l'inclusione attraverso il mondo dell'acqua l'acqua come fonte di vita protagonista di un percorso multisistemico destinato a bambini e bambine con disturbo dello spettro autistico o con altra disabilità e l'idea di Linfa il progetto del comune di Racale sostenuto dall'ambito territoriale di Gallipoli il quale sotto la guida di un'equipe di esperti e professionisti ha reso 20 residenti nei comuni dell'area protagonisti di attività psicomotorie in piscina cui faranno seguito laboratori sempre legati alla conoscenza del mondo acquatico l'idea di questo progetto è nata dalle tante richieste di diverse dati da fare per andare avanti per creare altre opportunità sia per le famiglie che per i bambini stessi per i bambini stessi perché comunque il nuoto ripeto è importante ovviamente in questo nuovo progetto che si chiama Linfa non ci sarà solamente il nuoto ma faremo anche delle attività di lettura ricreativa manipolazione ci saranno tante altre cose che faremo nel corso dell'anno l'obiettivo finale di Linfa è quello di creare le condizioni per un miglioramento generale del benessere dei ragazzi e delle ragazze con disturbo dello spettro autistico favorendo la loro autonomia e promuovendo la conoscenza dell'ambiente acqua che stimola relazioni tra una comunità intera senza distinzioni bambini che hanno li vedo con degli occhi meravigliosi quando entrano all'interno dell'acqua quindi è stato veramente un qualcosa di eccezionale vedere il loro sorriso quando entrano nella nostra piscina comunale e vederli nuotare all'interno di questa struttura il nostro obiettivo è quello comunque di portare avanti questo progetto ma saremo poi come amministrazione a finanziare ancora per altri mesi la possibilità di dare comunque alle famiglie ai ragazzi la possibilità di stare all'interno di questa struttura gli studenti dell'università del Salento in una competizione nazionale continuano quindi le attività di didattica esperenziale nell'ambito del corso di diritto dell'ADR le nostre studentesse sono pronte e agguerrite per partecipare alla negoziazione internazionale che si terrà a Roma Il corso di laurea in giurisprudenza di Unisa Lento è solito partecipare a tali sfide che in questa occasione consiste nella simulazione di due casi aventi ad oggetto una business negotiation al cospetto di massimi esperti provenienti da tutto il mondo che valuteranno in maniera meticolosa le abilità negoziali degli studenti partecipanti il tutto ovviamente in lingua inglese La competizione concerne due casi di business negotiation decisamente molto complessi e saranno valutati davanti a una giuria di esperti in negoziazione a livello mondiale La vera sfida di questa competizione consiste non nel raggiungimento di un vero e proprio accordo ma nel saper utilizzare sapientemente le tecniche di negoziazione in base alla tipologia di negoziazione che sia integrativa o distributiva nel saper gestire il conflitto e le emozioni negative che inevitabilmente possono emergere in maniera costruttiva Siamo molto contenti di partecipare e di rappresentare l'Università del Salento l'unica Università del Sud che fa parte della competizione quindi di Letta ci troviamo veramente d'accordo il lavoro di squadra è la cosa più importante e questo speriamo ci permetta di difenderci di vincere in caso ma più che altro partecipare e imparare molto da questa competizione pratica mettere in pratico ciò che studiamo Ed è tutto il TG di Lecce termina qui grazie per averci scelto per averci seguito a tutti voi un buon proseguimento di giornata Rimani connesso scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo Grazie a tutti